Era l'ottobre 2023 quando aggredì il fratello a martellate e poi lo lasciò nudo per strada. Adesso il 59enne Aretino è stato condannato a sei anni di carcere. I reati contestati, tentato omicidio e rapina aggravata. Per l'uomo le manette scattarono quasi subito, ancora in carcere, anche se adesso potrebbero profilarsi i domiciliari in un'altra abitazione, lontano dal fratello, che parte civile nel processo ha chiesto simbolicamente 500 euro di risarcimento. La sentenza è stata emessa dal tribunale in composizione collegiale con presidente e giudice Filippo Ruggero. La pubblica accusa, sostenuta in aula dalla PM, Angela Maziello, aveva invece chiesto una pena più bassa. I fatti risalgono ad un anno fa, in via a largo 2 giugno. I due fratelli all'epoca abitavano nello stesso appartamento con la madre anziana, una convivenza difficile già in passato, infatti c'erano state tensioni e liti, sino all'ultimo scontro nato per un banale diverbio. La vittima riportò lesioni non gravi da metterlo in pericolo di vita, ma le condotte dell'autore dei colpi furono subito qualificate come potenzialmente molto gravi.